Una performance intensa e carica di pathos. La storia di Piero Nava, rappresentante di commercio di Lecco che nel 1990, vicino ad Agrigento, assistette all'omicidio del magistrato Rosario Livatino, è arrivata sul palco grazie all'attore lecchese Alberto Bonaccina. All'auditorium Sant'Antonio di Morbegno, gli spettatori hanno potuto assistere a uno spettacolo coinvolgente e di elevata qualità. Dal titolo sono stato anch'io. Lo spettacolo è tratto dal libro Io sono nessuno, scritto da tre giornalisti lecchesi, Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi, Paolo Valsecchi e pubblicato da Rizzoli che appunto racconta, i tre giornalisti hanno recuperato, insomma hanno trovato un contatto con Piero Nava e racconta la storia di Piero Nava. Piero Nava, testimoniando all'omicidio del magistrato Rosario Livatino nel 1990, divenne il primo testimone di giustizia contro le mafie. Il suo sacrificio però fu costretto a pagarlo a caro prezzo. Da quel giorno iniziò il suo calvario. Cambio di identità, abbandono degli amici e delle sicurezze, trasferimenti e cambio di residenza ogni volta che si creava una situazione allarmante. Per dieci anni dovette rinunciare a lavorare lui che faceva del lavoro la sua vita. Bonaccina ha ribadito più volte la sua missione, ovvero di far entrare questo spettacolo e questa storia sempre più nelle scuole. È stato visto da più di 400 studenti del liceo Nervi e questo è molto importante perché questa storia appunto insegna ai ragazzi cosa significa anche la responsabilità personale, anche in situazioni estremamente difficili, ma dove appunto la responsabilità personale vince e fa compiere la scelta giusta, anche quando è faticosa e stravolge la vita. A noi interessa molto che questo spettacolo vada sì in serale, sì con un pubblico di adulti, ma specialmente coi ragazzi, coi ragazzi delle scuole superiori con cui poi di solito si intavola un discorso. In molte repliche abbiamo avuto la fortuna di avere anche l'intervento telefonico di Piero Nava, ovviamente con voce camuffata perché non può essere riconosciuta dal luogo segreto in cui vive, però ha potuto dialogare lui direttamente coi ragazzi e questo è un elemento emotivamente fortissimo. Piero Nava è una persona comunissima come noi che si è trovata ad assistere a qualcosa che riteneva non giusto e che non ci ha pensato un attimo a denunciare e ancora oggi lui dice che vorrebbe trasmettere ai ragazzi quella che è la differenza tra giusto e comodo, non sempre quello che è giusto e anche comodo.